Il treno regionale, 19-7-0-0, di Trenitalia, proveniente da San Benedetto del Tronto, è diretto a Ancona, delle ore 17, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 42-12, di Trenitalia, proveniente da Pescara Centrale, è diretto a Ancona, delle ore 14-05, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 42-59, di Trenitalia, proveniente da Pescara Centrale, delle ore 19-50, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Martinsicuro, Scerne di Pineto. Il treno regionale veloce, 17-28, di Trenitalia, proveniente da San Benedetto del Tronto, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 16-05, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Senigallia, Fano, Pesaro, Riccione, Rimini, Cesena, Forli, Faenza, Castelbolognese. Il treno regionale, 23-777, di Trenitalia, proveniente da Ancona, è diretto a Ascoli-Piceno, delle ore 15-50, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 23-7-8-4, di Trenitalia, proveniente da Ascoli-Piceno, è diretto a Ancona, delle ore 19-08, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti.